ben trovati con questo nuovo appuntamento con le review di svapo forniture il nostro canale ufficiale su youtube oggi andiamo a vedere un prodotto entry level della any vape e più precisamente prendiamo in considerazione il modello a1 glassomizer che potete vedere qui di fianco alla confezione la confezione chiaramente contiene cinque atomizzatori in blisterati singolarmente ma andiamo a vedere bene come è fatto allora visivamente questo atomizzatore ricorda molto il jazz fog come linee è un atomizzatore che ha delle linee molto semplici ed è composto da più parti scomponibili e completamente lavabili dopo vado a smontarvelo così vedete vedete come è fatto in tutte le sue parti allora cosa di particolare questo atomizzatore questo atomizzatore è un atomizzatore a bottom coil quindi la coil la ritroviamo nella parte inferiore dell'atomizzatore e ancor più particolare la partnership che any vape ha stretto con aspire perché su questo atomizzatore troviamo di serie l'ultima coil realizzata in casa aspire quindi la bvc è compatibile inoltre con le coil bdc e le bcc sempre aspire è un atomizzatore con carica dal basso quindi per caricarlo bisognerà girarlo svitare la ghiera inferiore l'attacco ego inferiore e per caricarlo si andrà a inserire il liquido all'interno di questi fori chiaramente arrivando cercando di arrivare al massimo al livello indicato sul tubicino qui abbiamo i fori per il refill dal basso adesso andiamo a smontarlo completamente quindi il l'attacco ego l'abbiamo già già tolto andiamo a togliere la ghierettina che serve per agevolare le operazioni di ricarica quindi una ghierettina lavorata in rilievo per consentire più grip l'atomizzatore la coil montata come dicevo abbiamo una spire bvc montata come si monta solitamente sugli atomizzatori bottom coil quindi nella parte inferiore questa è la bvc dell'aspire vedete compatibilissimo con tutte le coil aspire chiaramente tranne quelle del nautilus che sono sapete leggermente diverse in dimensioni il tip montato di serie è un tip in derlin ma potete tranquillamente modificarlo cambiarlo con qualsiasi tip che abbia un attacco 510 e è possibile inoltre smontare completamente quello che è il sistema interno quindi il tubo interno andiamo a togliere il cap superiore e lo mettiamo qui il vetro in pirex che ha una capacità di 1,6 millilitri di liquido e eventualmente potete andare a separare anche il tubicino che si collega con la parte inferiore dell'atomizzatore stesso ok questo serve per consentire una migliore pulizia del prodotto cioè quando decidete di andare a cambiare magari il liquido per avere meno meno note che si sovrappongono con il liquido precedente potete smontarlo completamente e lavarlo lavarlo in acqua calda perché comunque acciaio 316 inossidabile e vetro pirex ok quindi dicevamo è un atomizzatore semplice un atomizzatore con dimensioni ridotte completamente montato raggiunge gli 8 centimetri considerando anche il il tip il drip tip se andiamo invece a togliere il tip montato di serie e prendiamo in considerazione solo il corpo dell'atomizzatore che sto montando in questo momento raggiungiamo una dimensione di circa 6 centimetri quindi diciamo che è un atomizzatore sicuramente discreto non è non è eccessivo come quelli che si vedono ultimamente i protec mega piuttosto che i nautilus anche della spire è un atomizzatore molto piccolo che sta bene su qualsiasi tipo di batteria ego quindi come atomizzatore per iniziare è già un bel un bel un bello strumento quindi penso di di aver di aver di aver chiarito tutti gli aspetti salienti di questo atomizzatore molto molto bello molto piccolo e un bel entry level finalmente abbiamo un prodotto in grado di competere con jazz fog quindi potete tranquillamente scegliere per i vostri clienti questo prodotto in alternativa al più blasonato jazz fog per il momento è tutto e ci vediamo ci vediamo alla prossima